Anche i più grandi santi erano peccatori e tutte le realtà, persino le più belle, sono intaccate dal male, ma non la madre del Signore. Maria, oasi sempreverde dell'umanità, è interamente abitata da Dio, per questo in lei non c'è posto per il peccato. È la riflessione offerta da Papa Francesco prima della preghiera mariana dell'Angelus in occasione della solennità dell'immacolata concezione di Maria. Ogni volta che riconosciamo la Vergine piena di grazia, ha spiegato il Pontefice, le facciamo il complimento più grande, lo stesso che le fece Dio. Come la sua giovinezza non sta nell'età, ha sottolineato Francesco, così la sua bellezza non consiste nell'esteriorità. Maria, sempre giovane, non è toccata dal peccato. La sola cosa è in grado di rendere vecchi, di chiudere il cuore delle persone e farlo sfiorire. Contemplando l'annunciazione, ha aggiunto il Papa, è possibile cogliere il segreto che rende Maria la sola incontaminata, creata e immacolata, per accogliere pienamente con il suo sì Dio. In molti dipinti, Maria è raffigurata seduta davanti all'angelo con un piccolo libro in mano. Questo libro è la scrittura. Così Maria era solita ascoltare Dio e intrettenersi con Lui. La parola di Dio era il suo segreto. Vicina al suo cuore, prese poi carne nel suo grembo. Rimanendo con Dio, dialogando con Lui in ogni circostanza, Maria ha reso bella la sua vita. Non l'apparenza, non ciò che passa, ma il cuore puntato verso Dio fa bella la vita. Grazie a tutti.